Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Finalmente vi parlo di Tokimeki Tonight, un manga incredibile, la cui storia è conosciuta in Italia soprattutto per la serie animata arrivata con il titolo di Renzi la strega. L'anime di soli 34 episodi non dà soddisfazione perché narra solo le vicende dei protagonisti in età adolescenziale. La cosa è andata diversamente per l'opera originale cartacea. Il manga dell'autrice Koi Ikeno ha cominciato la sua serializzazione nel 1982. L'opera si è conclusa 12 anni dopo, nel 1994, ed è stata incredibilmente significativa nel panorama shoujo. Battaglie, guerre, morti di giovani personaggi, reincarnazioni saranno elementi poi ripresi anche da Naoko Takeuchi nella saga di Sailor Moon. Ramze Eto, alias Renzi Lupescu, frequenta il terzo anno delle scuole medie ed è una comunissima ragazza, un po' goffa e impacciata, o almeno solo in apparenza. I suoi genitori infatti provengono dal regno magico. Sua madre, Shira, è un licantropo e suo padre, Mori, un vampiro. 15 anni prima, per ribellarsi alle rispettive famiglie che si opponevano al loro matrimonio, Shira e Mori erano infatti fuggiti sulla terra e vi si erano stabiliti. Qualche tempo dopo era nata la loro prima figlia, Ramze, e in seguito il loro figlio minore, Rinze. Col passare del tempo, Shira e Mori erano stati perdonati dal re del regno magico ed erano stati messi addirittura a guardia della porta che collega i due mondi e che si trova nello scantinato della loro casa. Anche Ramze è dunque destinata prima o poi a manifestare i suoi poteri, cosa che accadrà di lì a poco. A scuola, Ramze si è innamorata, a prima vista, del bel Shun Macabe nell'adattamento italiano Paul, un ragazzo riservato un po' asociale che non sembra avere in testa le ragazze e con la passione per il pugilato. Ramze riesce subito a vedere oltre la corazza che Shun si è creato e fa amicizia con lui. Anche Shun, per qualche motivo, è colpito da quella ragazza un po' bizzarra che lo riempie di attenzioni. Tutto questo non piace a Yoko Kamiya, Lisa nell'adattamento italiano, coetanea di Ramze e anche lei innamorata di Shun. Peraltro Yoko è la figlia di un boss della Yakuza, proprietario della palestra, nella quale Shun si allena. Il padre di Yoko, eppure innamorato della mamma di Shun, che è single. Shun infatti non ha mai conosciuto il suo vero padre. Yoko e Ramze entrano quindi in conflitto per Shun e una mattina nei bagni della scuola, Ramze sente il bisogno impellente di mordere quell'antipatica di Yoko. Non appena la morde, Yoko sviene, mentre lei prende le sembianze di Yoko. Ed ecco qui l'incredibile potere di Ramze, trasformarsi nella persona, animale o cosa che morderà intenzionalmente. La ragazza torna a casa disperata, i suoi genitori invece fanno festa perché la loro figlia è finalmente diventata un mostro. Per riprendere le sue sembianze, a Ramze basterà starnutire. Diventato ormai grande e avendo manifestato i suoi poteri, Ramze fa la sua prima visita al regno magico, collegato al mondo umano attraverso la famosa porta dello scantinato. Nello scantinato ci sono anche porte che collegano al passato e al futuro. Ramze non dovrebbe andarci da sola, ma ovviamente i casi della vita la porteranno a fare più e più volte qualche scappatella nel regno magico. In una di queste capatine nell'altro mondo, Ramze fa la conoscenza di Aaron, niente meno che il figlio del re, che si innamora seduta a stante della ragazza e dopo aver chiesto il permesso a suo padre si stabilisce a casa di Ramze. I genitori della ragazza sono felicissimi, anche perché non vedono di buon occhio il fatto che Ramze si sia innamorata di un umano. Dal canto suo, Aaron, personaggio se vogliamo molto più cupo nel manga, è disposto a tutto pur di avere Ramze, anche a uccidere Shun, che sarà perciò più volte in pericolo. Aaron darà proprio al padre di Ramze il compito di far fuori Shun, ma il vampiro non se la sentirà, senza contare che sarà spesso Ramze ad accorrere in aiuto di Shun senza che il ragazzo se ne renda conto. Aaron sulla terra combinerà parecchi guai e suo padre lo richiamerà nel regno magico. Intanto il re affida ai genitori di Ramze un compito particolarmente difficile. Dovranno scovare l'altro figlio del re per qualche motivo finito sulla terra e che ha come segno distintivo un neo a forma di stella sul braccio sinistro. Il padre di Ramze intanto diventa anche uno scrittore di successo e dal suo libro Best Seller sarà tratto un film. Viene dunque escogitato il seguente stratagemma. Gli attori che si presenteranno ai provini per interpretare il protagonista dovranno avere un neo a forma di stella sul braccio sinistro. La questione del neo resta un po' vaga nel manga perché Shun non solo non ha intenzione di presentarsi ai provini ma dice a Ramze di non avere nessun neo, ovviamente mentendo. Ad ottenere la parte è un noto idol Keigo Tsutsui che oltre a innamorarsi perdutamente di Ramze ha anche il famoso neo e alla fine si scoprirà che è solo un umano. Il suo ruolo è abbastanza centrale in questa fase perché verrà a conoscenza dei poteri di Ramze e di quelli di suo fratello Rinze di soli cinque anni il quale nel frattempo ha scoperto di potersi trasformare in lupo. Rinze intanto fa anche la conoscenza di una bambina, Narumi, molto malata e che deve essere operata al cuore. Rinze e Ramze interverranno presso l'avvenente dio della morte che, mosso a compassione, salverà la vita a Narumi. Con grande orrore di suo padre Rinze poi si iscriverà alla stessa scuola cattolica frequentata da Narumi. Ricordatevi di Narumi perché ricomparirà in seguito. Nel frattempo viene svelato l'arcano e si viene a sapere il motivo per il quale il re vuole scovare il figlio finito nel mondo umano. Vuole ucciderlo perché secondo la profezia quel figlio sarà causa della distruzione del regno. Il re infatti aveva avuto due gemelli ma secondo le cronache antiche i gemelli avevano sempre portato guai e disgrazie. Poiché questo figlio non si trova viene previsto che nel giorno di Natale 200 ragazzi che possono più o meno avere le caratteristiche del figlio scomparso muoiano. Solo il vero principe infatti sarà in grado di rinascere e a quel punto lo si potrà individuare e farlo fuori definitivamente. Capite che la storia assume anche contorni abbastanza drammatici se pensate che questi ragazzi effettivamente muoiono nell'indifferenza generale. Nell'elenco dei 200 compare ahimè anche Shun Makabe e Ranze tenta di salvarlo senza però riuscirci. Quindi ragazzi Shun muore improvvisamente senza che nessuno possa far nulla. Miracolosamente però è proprio Shun a rinascere come bambino segno che è lui il principe scomparso. In quel momento anche sua madre recupera tutti i ricordi. La madre di Shun moglie del re del regno magico aveva dato alla luce due gemelli ma Shun portatore di una forte carica di luce era stato considerato funesto e così la strega Mebius aveva effettuato un incantesimo che aveva privato la regina della memoria esiliandola con suo figlio sulla terra. Ma evidentemente questo non era bastato visto che il re del regno magico aveva continuato a sentire su di sé il peso di quella profezia. Ranze e la madre di Shun decidono così di proteggere il bambino appena nato a dispetto di qualunque pericolo nascondendosi in una casa messa a disposizione da Keigo. Il re del regno magico prova in tutti i modi a rintracciarli fallendo nella sua missione. Intanto Shun viene accudito e allevato da Ranze. Il bambino sviluppa sentimenti di grande affetto per la ragazza oltre a crescere a vista d'occhio mentre Ranze in qualche momento di crisi continua a chiedersi se quello sia il vero Shun quello che lei ha conosciuto al liceo e del quale si è innamorata. Intanto arriva anche Aaron che vuole stare accanto a sua madre e persevera nel suo intento di voler sposare Ranze pur essendo promesso a una ragazza del regno magico Fira. Shun cresce e giunto nuovamente ai suoi 16 anni ma questa volta con incredibili poteri ricomincia a recuperare i ricordi di quando era un umano e decide anche di risolvere la faccenda una volta per tutte e di recarsi nel regno magico per parlare con suo padre. Lui non ha alcuna intenzione di succedergli alla guida del regno vuole solo starsene in pace. In un violento conflitto padre figlio si scoprirà che il re del regno magico è incapace di uccidere suo figlio che è troppo potente e così al termine di questo scontro dal quale Shun esce vincitore ha inizio una nuova era, un'era di luce nella quale la luna del regno magico viene sostituita dal sole. Era forse questo che intendeva la profezia ossia non la distruzione del regno ma semplicemente l'inizio di una nuova era? Evidentemente sì anche se sul regno magico aleggia ancora una sorta di inspiegabile pericolo. Intanto tra Shun e Ranze i sentimenti cominciano a diventare importanti, nel frattempo riappare anche Yoko Kamiya alla quale viene raccontato che Shun era scomparso perché si era trasferito insieme a sua madre che si era risposata e in effetti la madre di Shun è tornata insieme al sovrano e adesso vive nel regno magico. Shun comincia a vivere a casa di Ranze mentre Aaron, suo fratello gemello, continua a nutrire per lui una forte gelosia, un po' perché è innamorato di Ranze, un po' perché deve aprirsi una riflessione per la successione al trono. Ma c'è un sogno che continua a tormentare sia Shun che Aaron. Qualcuno li chiama e li attira verso uno strano luogo. Ranze entra nel sogno di Shun e dali finisce inspiegabilmente nel sogno di un altro uomo simile a Shun ma biondo. Si tratta di Dirk Carlo proveniente dalla Romania che innamoratosi di Ranze la raggiunge in Giappone. Inoltre Dirk è in possesso di un libro magico che potrebbe spiegare la profezia dei due gemelli e che permetterebbe di scoprire cosa era accaduto duemila anni prima quando nel regno magico erano già nati due gemelli. Intanto dal regno magico viene risvegliata una certa Zon che si presenta come una sorta di eroina che dovrebbe condurre il regno alla salvezza. Ma non tutto è come sembra. La storia adesso si fa più intricata. Ritrovato il libro che è in realtà un antico manoscritto si scopre quanto era accaduto duemila anni prima. Cercate di seguirmi perché qui la storia si fa complessa. Migliaia e migliaia di anni fa esisteva un unico regno in cui umani, demoni, spiriti celesti vivevano insieme. Il mondo era tenuto insieme da una pietra magica, la pietra della vita. Al re e alla regina nacquero due gemelli. Il re decise che il successore dovesse essere il gemello maggiore e questo suscitò le ire del minore che distrusse la pietra che si spezzò in cinque parti. Due parti diedero vita al regno magico, una parte al regno umano, una parte al regno celeste e l'ultima parte all'oscuro regno dei morti. Un regno sigillato nel quale nessuno era mai entrato. Per non dimenticare quanto accadde il re fece forgiare con i pezzi della pietra due anelli che furono donati ai due gemelli mentre con gli altri tre frammenti furono forgiati altrettanti anelli di cui si persero le tracce. Da quel momento in avanti la nascita di due gemelli significò guai e disgrazie. Ma per molti secoli non nacquero più gemelli finché non vennero alla luce Giancarlo e Aren Luke Worenser. Giancarlo si innamorò della bella Ranghe e fu designato quale successore al trono. Il re del mondo dei morti, il Meio, cercò di corrompere Aren per impossessarsi del regno. Durante il matrimonio e l'incoronazione comparve la strega dell'Ovest che indicò Giancarlo come portatore di malaugurio mentre la strega Egat si schierò a favore del principe. A quel punto Aren, stregato dal re del regno dei morti, sfidò Giancarlo per il trono. Comparve anche il re del regno dei morti che rivelò le sue vere intenzioni, servirsi di un componente della famiglia reale per aprire la porta sigillata del regno dei morti affinché i suoi abitanti potessero invadere il regno magico. A quel punto Giancarlo, utilizzando tutta l'energia in suo possesso e con l'aiuto della strega Egat, chiuse la porta del regno dei morti sigillandola in un blocco di ghiaccio. A quel punto Giancarlo aveva perso i suoi poteri diventando umano e anche sua moglie Rangel lo seguì diventando a sua volta umana, lasciando Aren a governare. La storia dunque è pronta a ripetersi. L'eroina Zon, infatti, altri non è che il Meio reincarnatosi, il re del regno dei morti che può assumere diverse sembianze a seconda delle esigenze e che adesso è pronto a servirsi nuovamente di Aaron e dell'energia che sprigiona dagli anelli dei due re per riaprire la porta del regno dei morti. Shun e Aaron, infatti, sono le reincarnazioni rispettivamente di Giancarlo e di Aren, nati duemila anni prima, mentre Ranze è la reincarnazione di Range. Infine, giusto per chiudere il cerchio, Dirk Carlo è un discendente di Giancarlo. I nomi originali del manga sono proprio questi. Shun decide così di recarsi nel regno dei morti rischiando la sua stessa vita e bacia Ranze per la prima volta dimostrandole finalmente il suo amore. Anche Dirk Carlo sente di doversi unire a questa battaglia in quanto discendente di Giancarlo, mettendo definitivamente da parte il suo amore per Ranze. Shun si convince che non è solo a combattere questa battaglia, con lui ci sono anche Ranze e tutti i suoi amici pronti ad aiutarlo. Arriva in suo soccorso anche la strega Egat, che rivela che esiste un'altra entrata per il regno dei morti, nel Bosco dell'Ovest. Giunti nel regno dei morti dopo una battaglia all'ultimo sangue contro il Meio, Carlo morirà dopo aver sprigionato dall'anello tutta l'energia di cui era in possesso, mentre a Shun scompare il Neo a forma di stella, circostanza che indica che ha perso i suoi poteri. Distrutto il Meio, almeno così si crede, e liberati gli abitanti del mondo magico, le cui anime erano tenute prigioniere nel mondo dei morti, si apre per Ranze e Shun una nuova vita. Si iscrivono al liceo di Santa Polia e a loro si uniscono anche Aaron e Fira. Aaron alla fine ha ceduto all'amore di Fira, che non lo aveva mai abbandonato. Anche Yoko Kamiya, che per tutto questo tempo l'avevamo vista trasformata in cane, riprende la sua vita di tutti i giorni. Si apre così una breve parentesi in cui Shun fonda un club di box e fa amicizia con nuove persone, ma Shun, consapevole ormai da tempo di essere diventato umano, decide di lasciare Ranze, che invece ha mantenuto i suoi poteri e di sparire. Ranze, scoperto che Shun è diventato umano, si reca nel mondo magico per chiedere alla strega Mebius di essere trasformata a sua volta in umana, e la strega la accontenta. Tutto questo in concomitanza con il ritorno del Meio, che non è morto, ma anzi più vivo che mai, vuole diventare l'unico re dei cinque mondi. Per farlo deve impadronirsi dei cinque anelli, creati con la pietra della vita e che rappresentano i cinque elementi, terra, acqua, aria, fuoco e etere. In seguito a vicende alterne, l'anello dell'acqua finirà nelle mani di Ranze, quello dell'aria finirà per una casualità nella pancia di Yoko e quello del fuoco nelle mani del Meio. Nella battaglia finale per recuperare gli anelli, Ranze e Shun resteranno uccisi proprio per salvare Yoko. Richiamati nel regno celeste dagli spiriti dei loro antenati e anche da Dirk Carlo, saranno riportati in vita e riacquisteranno anche i loro poteri. Si apre così la successione al trono. Successore viene designato Aaron con la sua sposa Fira. I sovrani del regno magico, padre e madre di Aaron e Shun, salgono finalmente al regno celeste, dal quale veieranno sui loro figli, mentre Ranze e Shun, tornati sulla terra, possono finalmente vivere la loro storia d'amore. Intanto Yoko Kamiya, a soli 16 anni, finirà per sposare il figlio di un vecchio amico di suo padre, Riki Kazama, in una sorta di matrimonio combinato. I due si piacciono, ma evidentemente non sono ancora pronti per il matrimonio, finiranno per divorziare poco dopo. A questo punto cominciano le vicende che coinvolgono Rinze, Eto e Narumi, la sua fidanzata. Vi ricordate di Narumi? Era la bambina che Ranze e Rinze avevano salvato da morte certa nella prima stagione, chiamiamola così. Queste vicende le racconterò per sommi capi, altrimenti tra i tanti personaggi che compaiono davvero non ci si raccapezza più e il video rischia di essere poco chiaro. Sono trascorsi alcuni anni, Ranze e Shun convolano finalmente a nozze. Rinze e Narumi sono due adolescenti che cominciano a frequentarsi seriamente. Accade che Narumi, proprio nel giorno del matrimonio di Ranze e Shun, mangi per sbaglio un fiore magico, che le conferisce il potere di ascoltare le voci di animali e di oggetti. Avendo acquisito queste speciali doti, viene in qualche modo dichiarata degna di far parte del regno magico. Intanto però a Rinze cominciano ad accadere fatti strani, la sua personalità si sdoppia. A tratti è il solito Rinze, dolce e affabile, in altri momenti si trasforma in un vero latin lover. A creare tutto questo scompiglio si scoprirà essere Tipple, un fatino proveniente dal regno delle fate che si è innamorato di Narumi. Dopo diverse gag e peripezie, Tipple la smetterà di fare dispetti e Rinze tornerà ad essere quello di sempre. Nel frattempo Ranze è rimasta incinta, mentre Yoko Kamiya ha cominciato a lavorare nell'infermeria della scuola. Ma un reporter un po' troppo ficcanaso scopre che Rinze non è umano e che ha il potere di trasformarsi in lupo. Un gruppo di persone dotate di poteri ESP e comandate da una sorta di scienziato pazzo vorrebbe far entrare Rinze nella loro setta per conquistare il mondo. Insomma, la situazione è fuori controllo, troppi umani sono venuti a conoscenza dei segreti della famiglia Eto e il re Aaron cancella i ricordi a tutti, tranne che alla povera Narumi, richiamando tutta la famiglia Eto nel regno magico. Nasce così il primo figlio di Ranze e Shun, il piccolo Taku e la famiglia Eto, dopo aver creato nuovi ricordi nella testa dei terrestri, possono ritornare proprio nel mondo umano in occasione del secondo matrimonio di Yoko Kamiya con Riki. Tutti sono convinti che la famiglia Eto sia stata in Inghilterra per un certo periodo e tutto va per il meglio. Nel frattempo il padre di Narumi si è risposato con una donna che aveva già una figlia, la piccola Mana. Nel giro di qualche tempo la piccola Mana comincia a manifestare dei poteri telepatici, mentre Tipol ricompare nuovamente sulla scena, chiedendo aiuto perché il regno delle fate è in pericolo. Tipol infatti è colui che è predestinato a diventare sovrano di quel regno, ma le fate nere minacciano di ucciderlo. Comincia così una serie di avventure che porteranno Narumi, Rinze, Mana e Tipol nel regno delle fate, allo scopo di sconfiggere le fate nere. Per salvare Rinze è rimasto intrappolato nel regno delle fate, Narumi utilizzerà tutta la sua energia vitale e così morirà. Verrà riportata in vita da una misteriosa energia che si sprigiona da tutti coloro che le vogliono bene e che è racchiusa in un cristallo di lacrima di luna. Vi ricorda vagamente qualcosa? Si scoprirà inoltre che la piccola Mana era le stessa una principessa del regno delle fate, inviata sulla terra proprio per essere salvata dalla minaccia dei malvagi. Tipol di verrà sovrano del regno che pian piano sarà ripopolato e prometterà a Mana di andarla a riprendere un giorno e in effetti così sarà. Nasce anche la seconda figlia di Ranze e Shun, Aira, e i due gemelli di Yoko e Riki chiamati Mumu e Fu. La terza parte racconta invece le vicende di Aira, la seconda figlia di Ranze e Shun. Fin da piccola Aira rivela un talento innato per la magia e la maga Mebius profetizza che sarà destinata a grandi cose, purtroppo anche pericolose. Le viene perciò regalato un ciondolo talismano per la sua protezione. All'età di 4 anni Aira è chiamata già a una grande missione. Narumi, la fidanzata di Rinze, che da sempre soffre di una malattia cardiaca, in pericolo di vita. È destinata infatti a morire giovane, visto che il suo nome non è mai stato cassato dalla lista del dio della morte. La ragazza sembra rassegnata al suo destino, ma c'è una speranza. Qualcuno deve recarsi nel mondo dei sogni per trovare la chiave del destino di Narumi, che possa sigillare la vita dentro di lei. Ma solo i bambini al di sotto dei 5 anni possono entrare in questo mondo. E così la piccola ma coraggiosissima Aira affronterà da sola questo incredibile viaggio, recuperando la chiave del destino. Ma ancora non basta. Sigillata la debole vita nel petto di Narumi, bisogna ora darle nuova linfa. Ma finalmente Rinze e Narumi potranno vivere felici, si sposeranno e daranno alla luce due bambini, Chiki e Hiu. Ma per Aira le avventure non sono ancora finite. Aira si lega molto a un bambino, Kairi, che ha stranamente il suo stesso ciondolo. Aira ha inoltre scoperto di avere il potere di manipolare il tempo. Poco dopo però Aira è costretta a separarsi da Kairi, che deve inspiegabilmente trasferirsi, mentre la maga Mebius decide di fare di Aira la sua erede e comincia ad addestrarla per far sì che la piccola diventi una potente maga. In quello che è già un bel trambusto, i figli di Aaron e Fira, la principessa Coco e il principe Leon giungono sulla terra. Coco si innamora di suo cugino Taku e Leon della piccola Aira. Eh sì, la cosa è un po' strana, non ci fate caso. La piccola Aira, che adesso ha nove anni però sente tanto la mancanza del suo amichetto Kairi, che riesce a intercettare attraverso un televisore magico. Il bambino sembra che sia in pericolo, imprigionato in uno strano mondo. Aira viene a sapere dalla strega Mebius che quello è il mondo del nulla, dove solitamente vengono spediti i ribelli del mondo magico. E cosa c'entra Kairi con tutto questo? Si scopre che suo padre Aldo era stato tempo addietro accusato di aver tentato di avvelenare il principe, nonno di Aira e padre di Shun. In realtà lui non c'entrava nulla, ma era stato comunque esiliato. Era così finito a nascondersi nel mondo umano, dove si era rifatto una vita con una donna e con i suoi figli. Alla fine tutto verrà chiarito, Aldo sarà scagionato da tutte le accuse e ripartirà con la sua famiglia per l'estero. Trascorrono ancora quattro anni, Aira adesso ha 13 anni e suo fratello Taku 17. Coco, la figlia di Aaron, re del regno magico, di anni ne ha 21 e continua ad essere pazzamente innamorata di Taku. Alla fine la sua perseveranza sarà ripagata perché Taku finalmente ammetterà di essere innamorato di lei e tra i due cugini nascerà una bella storia d'amore. Intanto nella storia entra un nuovo personaggio, Shinjo, l'allenatore di calcio, per il quale Aira si prende una bella cotta. Il ragazzo inoltre le ricorda molto Kairi, ma anche Shinjo, nonostante sia un bel po' più grande, sembra attratto da Aira. La ragazza arriva perfino a svelare a Shinjo il suo segreto, trasformandosi in maga davanti a lui. La strega Mebius, che non vuole che Aira si innamori di un umano, rapisce Shinjo e così Aira correrà a salvarlo e qui ci scapperà anche un bacio tra i due. Aira scopre così che l'amore non le ha fatto perdere i poteri magici, anzi glieli ha addirittura rafforzati. Tornati a casa sani e salvi, Shinjo promette di aspettare Aira, mentre Taku e Coco cominciano la loro seria storia d'amore e andranno a vivere insieme. L'opera Tokimeki Tonight conclude la sua serializzazione nel 1994. Nel 2000 il volume Nei pressi di una stella conclude definitivamente la storia che adesso vado a raccontarvi brevemente. Aira ora ha 16 anni e può vivere in modo più adulto la sua storia con Shinjo. Scopre però che Shinjo non ha ricordi della sua infanzia e allora decide di viaggiare indietro nel tempo per scoprire qualcosa. Incredibilmente si ritrova però nell'infanzia del suo amico Kairi in un momento particolare della sua vita. Kairi infatti durante una gita con la sua famiglia stava per annegare. In quel momento aveva visto Aira e l'aveva pregata di salvarlo e così il bambino si era risvegliato sulla spiaggia ma era stranamente diventato di qualche anno più grande, probabilmente si era trasportato nel tempo grazie proprio ai poteri di Aira. Raccolto da un istituto era stato poi adottato ed era diventato Shinjo Akini. Aira torna a casa sconvolta per aver scoperto che Shinjo è in realtà Kairi e quel che è peggio è che a seguito di questa scoperta improvvisamente Shinjo ringiovanisce divenendo nuovamente Kairi. Aira dovrà faticare non poco a comprendere che in realtà è sempre stata innamorata di Kairi e si era innamorata di Shinjo solo perché era la versione cresciuta di Kairi e nel frattempo i due saranno anche chiamati a salvare la terra da una cometa che sta per abbattersi sul pianeta. Ma tutto è bene quel che finisce bene, i due ragazzi salveranno la terra e si scopriranno follemente innamorati. Koko invece si scoprirà incinta di Taku. La storia di Tokimeki Tonight si conclude qui, anche perché l'autrice ha dichiarato che non sarebbe riuscita a immaginare Ranze Eto ancor più invecchiata. Vi sono stati comunque diversi spin-off, un volume dedicato all'infanzia e all'adolescenza di Shun Makabe, un altro dedicato alla storia dei genitori di Ranze e perfino un remake serializzato dal 2002 al 2009 che riscrive completamente la storia con gli stessi personaggi ma con situazioni diverse e talvolta ribaltate. Bene, io con la mia narrazione mi fermo qui. Conoscevate tutta questa intricatissima storia? Aspetto come sempre i vostri commenti e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!